Dalla ricostruzione post-sisma nessun beneficio per le imprese artigianali della provincia dell'Aquila. Nessun beneficio né economica né occupazionale alle imprese artigiane locali. Sono nell'ultimo anno in provincia dell'Aquila 504 cancellazioni a fronte di 344 nuove iscrizioni con un saldo negativo di 160 imprese pari almeno 2,26%. A parlare il direttore della CNA provinciale Agostino Del Re sulla base dell'analisi dei dati diffusi da Union Camera e Info Camera è un trend da quell'aquilano che ricalca anche l'andamento nazionale. Nel 2017 si sono perse 11.000 piccole aziende artigianali anche se il confronto nell'ultimo biennio resta il migliore degli ultimi 5 anni con una crescita dei servizi alle imprese, in particolare il noleggio e agenzie di viaggio. Andamento e leggera salita anche per i servizi alla persona e di comunicazione mentre vanno in segno negativo edilizia e manifattura. Un dato in linea, dice Del Re, con l'Abruzzo e con la provincia dell'Aquila dove la ricostruzione post-sisma non rappresenta però un elemento di tre nel sviluppo per l'artigianato locale. Del Re fa riferimento anche a tutto l'indotto che ruota attorno ai cantieri della ricostruzione alle opere specialistiche in subalpalto come impiantistica, finiture, falegnameria che continuano a segnare valori negativi quanto a numeri e occupazione pur avendo il territorio un artigianato valido e qualificato. La ricostruzione non ha portato nulla in termini di benefici economici al settore dell'artigianato che tra il 2016 e il 2017 in provincia dell'Aquila ha perso 2,26 punti percentuali. Un dato legato anche all'arrivo da fuori regione di grandi gruppi edili che non hanno creato occupazione sul territorio non avendo fatto ricorso alla mano d'opera locale. E se il saldo in Abruzzo è di meno 600 imprese artigiane tra il 2016 e il 2017 con un calo dell'1,91%, l'Aquila è fanno il nodo di coda in classifica. 160 artigiani sono stati costretti a chiudere bottega nell'ultimo anno. Più giù solo Chieti dove le imprese perse sono 221. Dati utili a capire come dare un approccio differente al sisma 2016 che ha colpito le province dell'Aquila e Teramo, conclude del re occorre lavorare ad un maggiore coinvolgimento dell'artigianato locale.